Salve a tutti e benvenuti a questa prima lezione sul capitolo 2 dedicato alla lotta per le investiture, un importantissimo episodio della storia tra impero e chiesa. Prima di parlare della lotta delle investiture propriamente detta, dobbiamo vedere che cosa era successo alle due grandi istituzioni che ne sono coinvolte, cioè l'impero e la chiesa. E cominciamo appunto dall'impero. Come abbiamo già detto nelle lezioni precedenti, l'887 è la data nella quale viene deposto l'ultimo imperatore carolingio, cioè l'ultimo imperatore discendente di Carlo Magno. Si chiamava Carlo III il Grosso. Carlo III era riuscito, sebbene per un periodo molto breve, a riunire le tre parti dell'impero. Ma nell'887 venne deposto, nell'888 morì e quindi dopo questo episodio si aggravò lo stato di turbolenza, di caos, di lotte che regnava in Europa. Perché? Perché i grandi feudatari, cioè i grandi signori che eleggevano il re, erano sempre più inclini a ribellarsi, in maniera da appoggiare un altro candidato ed ottenere così guadagni, riconoscenza, premi. Questo periodo di disordine, che durò molto a lungo, durò almeno per cento anni, non impedì che si formassero delle compagini statali, delle formazioni statali più o meno stabili. Di queste, le quattro importanti sono il Regno dei Franchi Occidentali, che sarà poi il nucleo della futura Francia, il Regno dei Franchi Orientali, da cui poi nascerà la Germania, e il Regno di Borgogna, in seguito assorbito dalla Francia, e il Regno d'Italia. Andiamoli a vedere nella cartina. Ed eccoli qua. Nell'attuale Francia, come vedete, si erano formati il Regno di Borgogna a sud-est, il Regno di Francia a nord-ovest, il Regno d'Italia, che ovviamente non comprendeva i territori dello stato della Chiesa e non comprendeva il Sud Italia, che era ancora in mano ai bizantini, a alcuni ducati lungobardi e agli arabi. Ma il più importante, il più grande e anche il più potente di tutti era sicuramente il Regno dei Franchi Orientali, la futura Germania, che però, come potete ben vedere, si era suddiviso in tanti ducati, in tante compagini statali più piccole, regionali, che però erano estremamente importanti, come vedremo. Ma trattiamolo una alla volta. E cominciamo dal Regno di Francia. Dunque, nel Regno di Francia, la corona dei Franchi Occidentali, appunto, era passata nell'anno 987 nelle mani del conte di Parigi, Ugo Capeto. Con Ugo Capeto ebbe inizio la dinastia dei Capetingi e questa dinastia era destinata a durare, era destinata a regnare sulla Francia per molti secoli. Fino al 1328 regnò proprio in linea diretta, cioè con una serie di primogeniti che si succedettero al trono. Dopo il 1328 cominciarono a subentrare sul Regno di Francia i cosiddetti rami cadetti, cioè la discendenza dei figli non primogeniti. Comunque, cadetti o primogeniti che fossero, si trattava sempre della stessa dinastia, della stessa famiglia, appunto i Capitingi. Tant'è vero che nel 792, in piena rivoluzione francese, quando processarono il re, quando i francesi processarono Luigi XVI, non lo chiamarono appunto Luigi XVI, ma in tutti gli atti del processo il re veniva definito semplicemente Luigi Capeto. Il cognome appunto deriva da Ugo Capeto, dal suo avo. Nel regno dei franchi orientali, invece, come abbiamo detto, si erano affermati questi grandi ducati regionali. La Sassonia, eccolo qua su, la Lorena, qui, la Franconia, qua nel centro, la Svevia, un po' a sud-ovest, la Baviera e anche ovviamente il regno di Bohemia. Questi duchi, questi capi di stato, questi feudatari, erano costantemente in lotta per la corona. All'inizio del X secolo, quindi all'inizio del Novecento e precisamente nel 919, a prevalere era stata la casa di Sassonia con Enrico I, l'uccellatore, che era stato eletto re di Germania appunto in quella data. Ma scendiamo in Italia e vediamo qual era la situazione. Come vi dicevo, il regno d'Italia comprendeva solo un'area abbastanza ristretta, cioè l'area settentrionale della penisola e parte delle regioni centrali, è questa che vedete colorata in verde. Restavano escluse le terre amministrate dalla chiesa, nella cartina in giallo, il meridione, le isole, dove esistevano ancora i vecchi ducati longobardi, questi colorati in rosa, e l'imperatore di Bisanzio controllava, come vedete, la Puglia e la Calabria. In mani arabe appunto abbiamo detto era la Sicilia. Il regno, quindi il regno d'Italia, questa parte del nord Italia, era anche in questo caso segnata da un lotte continue tra i feudatari che di volta in volta ne assumevano la corona ed era minacciato a nord dai sovrani germanici molto più potenti e a sud dalle mire del papa, quindi era un regno molto instabile e infatti come vedremo non durerà molto tempo. Come abbiamo visto quindi l'Europa, il vecchio impero carolingio era adesso suddiviso in quattro parti, quattro regni, quattro compagini statali estremamente instabili con una nobiltà litigiosa che continuamente cambiava alleanze e cercava di imporre il proprio predominio sulle altre casate. Una situazione che ovviamente non poteva durare e infatti ben presto le cose cambiarono e tornò a esserci un imperatore, un potere forte, una casata che cominciò a essere più importante e più forte delle altre. Si tratta proprio di quella casata di Sassonia di cui vi parlavo prima. Nel 919 infatti Enrico I Luccellatore era stato eletto re di Germania. Suo figlio, Ottone I di Sassonia, venne eletto a sua volta re di Germania nel 936 e poi si pose in mente l'obiettivo di allargare il suo potere. L'occasione giusta per impossessarsi anche del regno d'Italia, giunse nel 950. Si tratta di una storia veramente particolare, senz'altro non essenziale però, che è molto interessante conoscere. Cosa era successo? Era successo che in Italia, nel regno d'Italia, con tutte queste lotte tra feudatari per prendere il potere, la regina Adelaide, vedova del precedente re d'Italia, Lotario II, era stata imprigionata dal marchese di Ivrea, Berengario, che le aveva ammazzato il marito e poi l'aveva imprigionata. Adelaide riuscì a fuggire, non da sola, ma con l'aiuto di un altro feudatario, Aldalberto Atto, che poi sarebbe stato premiato e sarebbe diventato il fondatore della dinastia Decanossa, di cui parleremo anche in seguito. Adelaide, appunto, una volta fuggita, era riuscita, tra varie peripezie, a raggiungere la Germania. Qui era andata a trovare Ottone I, che l'aveva ricevuta, e la giovane gli aveva chiesto di diventare suo marito, quindi si era offerto a lui in matrimonio. Ottone I non si fece sfuggire l'occasione, sposò Adelaide e, con la scusa, appunto, di recuperare il regno d'Italia, che a questo punto diceva appartenere a lui, scese in Italia, sconfisse Berengario a Pavia e guadagnò così la corona d'Italia nel 951. Quattro anni più tardi Ottone vinse una grande battaglia, una battaglia importante perché segnò la fine delle incursioni degli Ungari, la battaglia di Lekfeld, presso Augusta, e successivamente, negli anni Sessanta del Novecento, riuscì anche ad ottenere la corona imperiale. Venne infatti eletto imperatore, venne, scusate, non eletto imperatore, ma incoronato imperatore a Roma nel 962 da Papa Giovanni XII. Vi potrete chiedere come mai ci fosse bisogno dell'incoronazione papale perché si doveva fare così. Carlo Magno, che era stato il primo imperatore del Sacro Romano Impero, aveva in qualche modo istituito una tradizione. Per diventare imperatori bisognava essere re d'Italia perché la corona d'Italia si legava ovviamente all'ascendenza romana e si doveva essere eletti a Roma in San Pietro dal Papa. La corona doveva essere posta sul capo del nuovo imperatore dal pontefice. Questa trafila è obbligata e vedremo che la seguiranno tutti gli imperatori della storia. Con Ottone riprese vigore in Europa l'impero, però secondo una nuova forma. Non si chiamerà più il Sacro Romano Impero, ma si chiamerà Sacro Romano Impero di Nazione Germanica o Sacro Romano Impero Germanico per far prima. Rispetto all'ampiezza di Carlo Magno questo nuovo impero era però molto più piccolo. Torniamo alla cartina e vediamo appunto che questa nuova compagine imperiale non comprende la Francia, quindi il regno di Francia e il regno di Borgogna ne erano esclusi, ma comprende semplicemente l'attuale Germania, l'Italia del nord e del centro. A questo punto, divenuto imperatore, Ottone I deve in qualche modo regolare i rapporti con la Chiesa. Ricordatevi che una delle cose che servivano per diventare imperatore, oltre al fatto di rivestire la corona d'Italia, era quello di ottenere l'investitura da parte del pontefice. Quindi l'imperatore era molto interessato alla figura del pontefice, a chi era il pontefice. E quindi Ottone I decise di regolare i rapporti tra l'impero e la Chiesa. Durante l'Alto Medioevo come veniva nominato il Papa? Veniva nominato dal clero di Roma, quindi da tutti i sacerdoti di Roma, e poi doveva essere approvato, quindi acclamato dai cittadini romani pubblicamente. Tuttavia, sia il clero sia i cittadini romani erano manovrati dalle potenti casate aristocratiche della città, che a loro volta erano estremamente interessati a far eleggere Papa uno dei loro, qualcuno che fosse il loro alleato. Pensate, ecco un'altra storia che non è essenziale ai nostri fini, ma che è molto interessante conoscere, che a un certo punto, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, una nobildonna romana, Marozia, era diventata talmente potente a imporre una serie di papi, e tra questi anche suo figlio. Papi che ovviamente non erano certo persone sante o persone che avevano la fede religiosa come loro merito particolare, ma che erano senz'altro fedeli alla casata di Marozia. Quindi la corte pontificia, lungi dall'essere un luogo santo, un luogo spirituale, era diventato un luogo di corruzione, dove congiure e delitti erano all'ordine del giorno. Ecco, questa corruzione morale della chiesa, della sede pontificia, provocò l'intervento dell'imperatore. Cosa fece Ottone I? Allora Ottone da un lato confermò la validità delle donazioni fatte ai papi nei secoli precedenti. Tutti quei territori che erano stati donati alla sede pontificia dagli Utprando, re Longobardo, e dai re Franchi, Pipino il Breve, e Carlo Magno, rimasero di proprietà del Papa. Però, per arginare l'influenza delle famiglie romane, Ottone decise di riservare a se stesso il diritto di nominare il pontefice. Venne infatti emanato il cosiddetto privilegium ottonis, una legge, un editto, il privilegio ottoniano tradotto in italiano che venne redatto e promulgato nel 962 e che imponeva che l'elezione del Papa potesse essere sicuramente scelta dai Romani ma poi doveva essere approvata dall'imperatore. Questo ovviamente garantiva che sul soglio pontificio non sarebbero potute salire persone non gradite all'imperatore. Un altro problema che Ottone I dovette risolvere per rinsaldare il proprio potere era quello dei feudatari. Abbiamo detto infatti che sia in Italia che soprattutto in Germania i grandi duchi, i grandi feudatari avevano un immenso potere e in qualche modo Ottone dovette cercare di controllare questa situazione, di ridimensionare il potere dei feudatari. Per fare questo puntò sui vescovi. Che cosa vuol dire puntare sui vescovi? Vuol dire fare in modo che il vescovo di tutte le città dell'impero, voi immaginatevi l'impero enorme, ciascuna città di questo grande impero aveva un suo vescovo, quindi un uomo di grande potere che in qualche modo gestiva la città stessa, ecco doveva fare in modo, Ottone I, che ciascun vescovo di ciascuna città fosse una persona a lui fedele. E come poteva farlo? Beh ovviamente doveva sceglierli, doveva scegliere i vescovi delle singole città. Come si faceva a scegliere i vescovi? Mediante l'investitura. L'investitura è una cerimonia specifica, un atto con cui un potente conferiva al suo vassallo un feudo e lo autorizzava con questo atto ad esercitare il potere su questo feudo, cioè su questo territorio e a goderne i proventi. Il signore manteneva la proprietà della terra e alla morte del feudatario poteva riprendersela. Quindi che cosa successe? Successe che i vescovi vennero scelti da Ottone, dall'imperatore, che consegnò loro un feudo con tutte le annestre prerogative, amministrative, giudiziarie, militari e anche soprattutto economiche. È la stessa identica cosa che aveva fatto Carlo Magno, solo che Carlo Magno si era affidato ai conti laici, mentre Ottone I si affida ai vescovi, quindi dei religiosi. Il nuovo imperatore ottiene così un duplice vantaggio. In primo luogo i vescovi, siccome non potevano sposarsi, era impedito ai vescovi di sposarsi, potevano sposarsi soltanto i sacerdoti. Ecco, i vescovi appunto che non potevano sposarsi non potevano avere figli legittimi a cui trasferire l'incarico e il beneficio così sarebbe tornato sicuramente nelle mani del sovrano. Ora, è vero che anche Carlo Magno aveva questa prerogativa, assegnava i suoi conti della terra e poi se la poteva riprendere. Purtroppo però, nel periodo in cui i discendenti di Carlo Magno avevano iniziato a lottare tra di loro per ottenere l'impero, uno di questi discendenti aveva emanato un capitolare, cioè una legge. Capitolare significa semplicemente legge emanata dall'imperatore carolingio, era così che si chiamavano le leggi al tempo del sacro romano impero. Ecco, uno di questi suoi discendenti, per la precisione Carlo il Calvo, nell'877 aveva emanato il capitolare di Quiersi. Cos'è il capitolare di Quiersi? Una legge che aveva reso ereditario il possesso dei feudi maggiori, cioè i più grandi feudatari potevano lasciare in eredità ai propri figli le terre consegnate, le assegnate dall'imperatore. Quindi avevano perso completamente la possibilità di tenere a freno i feudatari. Gli imperatori non avevano più questa arma contro i loro feudatari. Se non fai quello che io ti ho imposto mi posso riprendere il feudo e non lo darò a tuo figlio. Quest'arma gli imperatori carolingi non ce l'avevano più e non ce l'aveva più neanche Ottone I perché purtroppo, appunto, come dicevo, il capitolare di Quiersi, che è ancora valido, l'aveva abolita. Ottone quindi punta sui vescovi che non possono sposarsi, non possono quindi avere figli legittimi e quindi non possono far ereditare a dei figli illegittimi l'incarico e il beneficio che gli era stato dato dall'imperatore. Questo è il primo vantaggio, potersi riprendere alla fine le terre. Ma c'è anche un secondo vantaggio. Ottone I sceglie uomini di sua fiducia, uomini che lui conosce, uomini che gli sono fedeli perché non possono fare altro. Sono stati nominati da lui e quindi a lui devono tutto. Intorno alla città dove il vescovo abita ci sono altri signori feudali che invece sono autonomi e se il vescovo vuole mantenere la propria indipendenza deve affidarsi, deve farsi appoggiare dall'imperatore. Quindi più vescovi Ottone I nominava, più ne investiva e più si allargava la cerchia delle persone sulle quali poteva contare. Quindi, riassumendo, nella seconda metà del Novecento, il X secolo, un imperatore della casata di Sassonia, Ottone I, riesce a impossessarsi del potere, riesce a ottenere la corona di Germania prima, poi la corona d'Italia ed infine essere nominato imperatore in San Pietro dal Papa. Dopodiché questo imperatore comincia a controllare il suo impero, cioè comincia a rafforzare il suo potere. Prima controllando la chiesa, con il privilegio Motonis, assicura all'imperatore il controllo della nomina del pontefice. E poi con la nomina dei vescovi. Nominando i vescovi, l'imperatore ottiene non soltanto il controllo della chiesa, ma soprattutto ottiene il controllo del territorio. Ottiene degli alleati su tutto il territorio dell'impero, poiché i vescovi gestivano le città, si trovavano nelle città. Quindi, in qualche modo, ridimensiona il potere dei grandi feudatari e aumenta il proprio potere, poiché i vescovi, che verranno definiti in qualche modo vescovi conti, perché, pur essendo dei religiosi, ma avevano le stesse prerogative che in passato Carlo Magno aveva assegnato ai suoi conti, ecco, questi vescovi conti, a lui fedeli, gli forniranno l'esercito quando lui ne avrà bisogno, gli forniranno i tributi che gli sono dovuti e quindi il nostro imperatore è più sicuro, più stabile, non teme più le altre famiglie di grandi nobili che potrebbero, in qualche modo, cercare di togliergli il potere. Bene, con questo noi abbiamo concluso, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione.